Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri alla ricerca del commando che nella notte tra giovedì e venerdì ha fatto irruzione all'interno della Nicol Preziosi di Anghiari. I militari hanno già acquisito le immagini delle telecamere di video e sorveglianze, raccolto elementi e tracce che i malviventi potrebbero essersi lasciati alle spalle. Un colpo studiato nei minimi dettagli, con tanto di strade sbarrate con tronchi e un tiro rubato a città di castello utilizzato come ariete per farsi strada nell'edificio. Il raid sarebbe stato immortalato dalle telecamere di video e sorveglianza, almeno quattro i malviventi in azione, tutti a volto coperto. In una manciata di minuti hanno fatto razzia di metallo prezioso, argento in lavorazione. L'esatto ammontare del bottino resta ancora da quantificare, ma potrebbero essere diversi i chili di preziosi sottratti. I ladri avrebbero infatti portato via alcune bobine di metallo. Potrebbe essere stato il repentino arrivo dei carabinieri, l'acquistazione si trova a poche centinaia di metri ad aver messo in fuga la banda salvando almeno le cassaforti. Il modus operandi ricorda alcuni colpi messi a segno recentemente in altri angoli della provincia. Lo scorso ottobre un altro colpo da quasi un milione di euro era stato messo a segno in un'azienda di Quarata con modalità del tutto simili. Anche in questo caso infatti le strade furono sbarrate e un'auto rubata fu lanciata contro il cancello per sfondarlo.